Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come personalizzare la propria barra delle applicazioni cambiando così il colore come potete vedere su Windows 11 io ho la barra delle applicazioni tutta bianca con questo sfondo se andiamo un attimo su sistema, su personalizzazione, su colori scegli la modalità, da chiara mettiamo scura, possiamo qui mostrare il colore principale su start e sulla barra dell'applicazione perché se lo mettiamo su chiara non ci permetterà di attivare questa opzione quindi facciamo su scura, attiviamo questo colore, come potete vedere io ho messo il colore verde posso scegliere un altro colore, metto questo, metto questo, metto questo, il rosso, meglio di niente visto? quindi grazie a tutti per questa visione, una piccola, una semplice guida su come personalizzare il colore sulla barra delle applicazioni ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!